molto legante qui finischi, apertura su Quarascheria, palla sul destro, trova la centraria, porta per Mario Rui, arriva anche di Vala dal fastidio, gran giocata di Mario Rui, ancora per Quarascheria, mordi al secondo palo, cerca Rosyman, freddo destro, Rosyman! Ma che cosa ha fatto Rosyman? Tutto nasce dalla magia di Mario Rui, poi Quarascheria, poi sul cross della ripresa della rosa, Rosyman ha fatto un capolavoro, di forno, se non puoi perdire le posizioni, la di Messi era decentrato, e Quarascheria ha fatto con la Rizz, su di lui era rimasto comunque un po' di copertura e più mala che di fatto l'ha ostacolato, che da nel che... è una sola norma, 4-1, finissamente, grazie, ti lo facciamo, non lo facciamo, scadordo con la Rizz, la pressione d'Antonio, non lo facciamo, 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 Grugli Ma lì che l'ha detto Grazie Non lo so, forte pesa Ma va a fare ancora Cosa prego? Con il riflesso sul primo colpo di testa Il mio mano Tira! Mamma mia! Ma la deviata? Mamma mia Si gioca Gioca E rivediamo No, palla e mezzo Occhialo su di lato da Roma Con il pallone franchezze E con il giro Non è come il tuo due Cioè, non fa il volo che la faccia Come si fa con il pallone? Ma proprio Concettualmente Cosa ha preso? Non è che cosa ha fatto? No, non è che cosa ha fatto E non è che cosa ha fatto E non è che cosa ha fatto Stefano e Saraui numero 92, viva l'1-1, giusto eh, un po' c'è la fin di roba un po' sapevo, c'è la parto, c'è la partenza, c'è la ballo, ma si gioca, quindi è chissato, è bene in quella zona, ha trappato verso di Berlusconi, stava ancora, la pressione giallorossa, mentre fa per arrivare in casa Roma è anche momento per Vigni, quindi la giocata dentro, Simeone, per il 2-1 a Napoli, 85 minuti, colpisce Simeone, la pazienza del Napoli, un po' di sofferenza perché la Roma ha giocato una signora a gara ma lo fa soprattutto grazie alla qualità e alla quantità e se il miglior attaccato del campionato viene sostituito grazie a tutti